Hai finito l'università? No, allora, in questa canzone... Allora, in questa canzone, mi spiego cosa succede, Laura si trova in una discoteca, allora, ripeto, Laura si trova in una discoteca e sta ballando, ovviamente in questa discoteca, finché Lino vede questa ragazza che balla e, come tu so, e lo vuole provarci, però non troverà una donna che si spiega e si concederà a lui, ma soffrirà molto. Vediamo come va a finire. Sì, non è andato all'ora, bravo! Sfighele! Sfighele! Sono qua! Forza, dove sei? Sono qua! Forza, mi mette qua perché poi ci stai avanti, ma sei pure il governo! Forza, mi mette qua perché poi ci stai avanti, ma sei pure il governo! Mi potete dirmi, il rapporto è il bandifico, il periodo è sopra che mi inizia. Bandifico! Lino arriva con una cravatta, sperando che il forno gliela spratta, Comincia a fare la bovatta, il mio sguardo va in cagnesco, però Lino mi prova lo stesso, perché vuoi che con lui esco. Ed io lo meno, ma lui ha il timo a compare sereno. E poi, perché cazzo, e mandano la fede a un fornato, ma sfortunatamente tu, guardi Luca e Paola alla TV, non sono stato a Collino, non sono stato a Collino, neanche un bacino, non sono stato a Collino. Prefere lei a Simone, ma è nonna, fagli toccare anche sotto la gonna, poti mandarla a lui. Eppure al grande, mea ne Lorenzo, un'altra rima, poi dopo ci penso. Sempre mandarla a lui, eh. E poi, povero Cristo, nel popito si vede l'antibasso misto, ma io, a voglia che esisto, che per me non solo io esisto, te la sei voluta tu, se io non te la darò più, non sono stata a Collino. Non sono stata a Collino, neanche un pochino, perché sono stata a Collino. E' un pochino.